...per l'accensione degli alberi di Natale che vanno via... Passa, passa Antonio, vieni! ...al Natale Messinesio, un Natale grande spavolo perché l'amministrazione comunale... Scendete, scendete di un gradino, grazie. ...proprio a contorno alla normalità, questo Natale fosse ricordato che una serie di eventi che continueranno con un mega concerto, che si verrà in piazza e continuare... ...ma soprattutto con tutte le manifestazioni collaterali che sono state organizzate... ...partetto proprio da una sede principale dove è previsto l'accensione dell'albero all'interno dell'albero... ...e poi quello che viene realizzato da una delle partenze... ...sur Ruggione avremo stasera... ...della piazza di Toglato, la prima è la piazza di Toglato, la prima è la piazza di Toglato... ...adesso prendiamo appunto l'ingresso del sita, dove sta arrivando in cordone... ...della piazza di Toglato... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.